Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini, accanto all'orto del convento. In questi viali spesso Padre Pio veniva a passeggiare oppure si ritagliava dei momenti di preghiera. Il racconto che facciamo di Padre Pio oggi ci porta al 1914, quando lui costretto dalla malattia a stare nel suo paese natale, Pietrelcina, racconta quello che gli accadeva. Era l'agosto del 1914 e lui scrive a Padre Agostino che è stato gravemente ammalato, anche a Pietrelcina. Questa strana malattia, a volte quando noi ricordiamo il periodo di Pietrelcina, ricordiamo un periodo dove Padre Pio si preparava alla grande missione qui a San Giovanni Rotondo e scrive Non senza grave sforzo ed incomodo, mi accingo a tracciare queste poche righe. In effetti è una breve lettera. Sono stato a letto ammalato per alcanti giorni, senza aver potuto neanche celebrare e presentemente sento una grande prostrazione di forze. Ma si è benedetto sempre Gesù e che anche nel mostrare la sua giustizia non sa dimenticare di essere egli il padre delle misericordie. E racconta questo Padre Pio, anzi fa gli auguri per il prossimo onomastico al suo caro padre Agostino. All'approssimarsi del giorno del vostro onomastico il mio cuore sente essere il petto troppo angusto per poterlo contenere. La gioia che esso sente è tale da potersi appena immaginarsi, descriversi già mai. Lascio supporre poi a voi il modo con cui ve lo auguro. Gesù con l'abbondanza delle consolazioni possa farvi felice, rendervi degno del suo regno. In quel giorno specialmente non mancherò di raddoppiare le mie suppliche al Signore, al mezzo del Santo di cui ne portate il nome, affinché voglia concedervi un po' di quel santo zelo apostolico di cui ne era ripieno il cuore del Santo Dottore, ecco in questo caso Sant'Agostino. Sono altamente compreso che le mie preghiere sono degne più di punizione che di premio, ma pure pregherò essendo il Celeste Padre mostrato sempre tanto buono con me. Potessi almeno Padre mio serbarne gratitudine dei tanti favori di cui la pietà del Signore va sempre più arricchendo il mio spirito, sempre Dio, ribelle ed infedele, ma viva mai sempre la bontà del nostro Divin Maestro.